Dopo il fattaccio che è successo, in un primo momento era stato detto diciamo dall'autorità che questi sarebbero stati allontanati, se non che oggi dice che sia stato questo trasferimento, però ne sono partiti 16 e ne è arrivati 18, quindi è tutto da vedere e da verificare. Non si placano gli animi dei residenti di Badia Ignano nel comune di Bucine, sono stati infatti trasferiti 16 richiedenti asilo ospiti della struttura di Badia Ignano, tra i quali anche i due indagati per atti osceni, luogo pubblico il quale avrebbero consumato un rapporto sessuale anche di fronte ad alcuni minori, ma intanto sono arrivati, a quanto ci dicono i residenti, altri 18 migranti. Secondo noi se il fattaccio c'è stato, dovesse allontanare quei due e non togliere 16 persone e mandare 18, perché questa non è integrazione, cioè come fanno a integrarli se magari fra due o tre mesi fanno altrettanto con questo. Spetterà ai carabinieri chiarire i contorni della vicenda e a stabilire cosa sia accaduto una settimana fa all'interno della struttura, ma ad oggi a far crescere il malumore in paese è sia la decisione del trasferimento in blocco dei richiedenti asilo che l'aumento del numero di ospiti. Qualche ed uno integrato c'era, si parla di 4-5 elementi, alcuni gli s'era stato proposto cose sportive, insomma un lavoro addirittura uno, però era tutto un pre, gli era stato proposto sabato, ora sono stati allontanati e non c'è avuto tempo. Intanto è in programma per i prossimi giorni un nuovo presidio in paese. Grazie. Grazie.